cari amiche cari amici la fede quotidiana pubblica un'intervista a marcello pera titolo marcello pera bergoglio è apertamente contro tradizione dottrina introduce cose inspiegabili articolo ultimamente in coincidenza di con ricorrenze molto cari cattolici sono comparsi manifesti blasfemi su gesù gay e campagne irridenti della madonna immacolata a bologna insomma sembra che i simboli religiosi dei cattolici possano essere insultati senza pagare dazio abbiamo sul punto intervistato il presidente merito del senato marcello pera un ateo devoto che non le manda a dire domanda presidente pera i simboli dei cattolici sono bersagliati perché risposta intanto diciamo con chiarezza che quanto accade è molto grave a mio avviso dipende dal fatto che ormai buona parte dei cattolici sono rassegnati non hanno consapevolezza e sono senza entusiasmo non reagiscono con quella determinazione che sarebbe necessaria sono loro forse i primi a non crederci più possiamo forse parlare di fede declinante o di minoranza domanda presidente pera se si fossero fatte campagne simoli su simboli islamici o degli ebrei le proteste sarebbero state forti dico di più risponde gli stessi i vertici cattolici o i giornali di quest'area che hanno taciuto parlato blandemente avrebbero difeso ardentemente musulmani ed ebrei se avessero fatto ad islamici ed ebrei solo la metà di quello che è successo ma che putiferio questa non è tolleranza è resa a calarsi le brache davanti al laicismo al secolarismo e al relativismo ovviamente anche davanti all'islam che non è un credo di pace e di misericordia come vogliono farci credere ma invita la sopraffazione con questo credo risulta problematico il dialogo senza prima mettere in chiaro i concetti fondamentali del rispetto reciproco e dell'obbedienza alle leggi dello stato e ai valori occidentali domanda presidente vera sembra che la chiesa cattolica in queste circostanze non abbia alzato i toni il cattolicesimo da tempo è degradato sta perdendo la sua battaglia culturale e religiosa le autorità cattoliche hanno paura ed offrono uno spettacolo triste lo specchio fedele di tale situazione è il vertice papa bergoglio chiede il giornalista certo egli va apertamente contro la tradizione la dottrina introduce innovazioni comportamenti gesti inspiegabili questo pontificato è uno scandalo in senso biblico disorienta fa cadere i fedeli non porta frutti anzi li fa diminuire vocazioni presenza alle messe sono calati raccolta fondi anche e pure agli angelus le presenze si sono diradate e lo vediamo nelle immagini anche se il conformismo informativo non lo dice per quello che riguarda i fondamenti della fede cattolica questo pontificato è un oltraggio alla ragione però nessuno fedeli vescovi nessuno dice nulla nessuno ha il coraggio di ribellarsi eppure sono in tanti che dubitano il problema è che la chiesa è ridotta ad una specie di organizzazione non governativa bada maggiormente al sociale ha trasformato greta in un idolo corre dietro a visioni solidaristiche politiche sociali al buonismo ma i pastori si dimenticano spesso della salvezza delle anime che è il loro compito principale presidente pera tuttavia papa bergoglio piace molto specie non credenti è uno che vuole compiacere piace alla gente che piace segue il politicamente corretto del resto che cosa aspettarsi se l'ho dall'abbonino è una chiesa così in uscita che non si trova più presidente lei è molto legato al papa emerito benedetto sedicesimo è al corrente di questa cosa che ne pensa a non lo sento non ci parlo più da tempo posso solo congetturare che sia dispiaciuto allarmato però da quanto ha compreso non vuole e non può intervenire ha scelto il silenzio mantiene fede con correttezza al suo impegno questo era marcello pera sono contento che mi dà ragione sul fatto che voi cattolici dormite mentre tutto si sfascia state a dire le predierine lui ve l'ha detto in un linguaggio molto più diplomatico di un linguaggio molto più casericcio e diretto ma la sostanza è la stessa un pollice in su per il mio lavoro e sempre incollati al decimo toro un caro abbraccio a tutti marco cosmo